Se il Signore mi chiamasse oggi, cosa farei? Cosa direi? Quale grano le farò vedere? Il pensiero della fine ci aiuta a andare avanti. Non è un pensiero statico. Un pensiero che va avanti perché è portato avanti dalla virtù, dalla speranza. Sì, ci sarà una fine, ma quella fine sarà un incontro. Un incontro col Signore. È vero che sarà un rendiconto di quello che ho fatto, ma anche sarà un incontro di misericordia, di gioia, di felicità. Pensare alla fine, alla fine della creazione, alla fine della propria vita, è saggessa. I saggi lo fanno.